Allora Max, il tuo amico Kazzynski ci stava per giocare un brutto scherzo, insomma 2-1 sotto, 21-23 sotto, è uscito fuori prima ancora che la tecnica, il carattere di questa squadra. Sì, Mattei, insomma un giocatore di altissimo livello, un amico, io ho avuto la fortuna di giocare per lui tanti anni, mi ha fatto vincere tanto. Con lui in campo Verona è un'altra squadra, è cambiata completamente perché hanno un'uscita di palla alta in più, un grande battitore e quindi il livello generale di Verona si è alzato e adesso è una squadra veramente, veramente forte. Io questa partita consideravo come uno scontro diretto, perché adesso, che loro stanno giù in classifica perché hanno perso tanti punti all'inizio, adesso sarà tosta per chi affrontarli, soprattutto da loro sarà veramente tosta. E chi la affronterà poi tra l'altro nello scontro diretto, diciamo, una partita secca di Coppa Italia, e sono dolori, dovrà sudare. Insomma ci ha fatto soffrire, però l'abbiamo portata a casa e questa è la cosa più importante. Ecco, l'importanza di questa vittoria, no? Solitamente si tende a pensare, no? Un 3-2 in casa, un punto perso, secondo me sono due punti straguadagnati. Sì, perché come ti dicevo prima, io questo lo considero uno sconto diretto. Loro sono una squadra forte adesso, forte, forte, che punterà, punta in alto. Insomma, noi abbiamo vinto all'andato una partita che è stata alla fine, è stata facile, no? Perché loro ci hanno regalato metà dei punti e non era la Verona che adesso, è cambiata completamente. Adesso è una squadra difficile da affrontare, che gioca bene, che è in fiducia, quindi sì, è molto più importante questa vittoria, secondo me, che quella dell'andata. Lo facciamo un tuffo nel 2019 perché lo iniziamo subito con un grandissimo match a Trento. Ci giochiamo la vetta, per quanto provvisoria, per quanto possa contare in questo momento, però grande sfida. Sì, dovessimo vincere, insomma, a questo punto della stagione non sarebbe male. È una partita facile da preparare, ma difficile da affrontare, naturalmente, perché loro non perdono da tanto. 18 vittorie consecutive. Sono in piena fiducia, giocano bene, in casa ci sarà il palazzetto pieno, come è giusto che sia. Ci sarà da divertirsi, da sudare, da divertirsi. Vediamo, insomma, una partita importante, non decisiva, perché poi ci sono ancora tutti gli sconti diretti, però, insomma, di quelle belle da giocare. Grazie Max e buon anno. Grazie a voi, buon anno a tutti, ciao.